Siamo di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con Orobia Extra e parliamo dell'ultimo tenda trekking di quest'anno. Siamo andati sull'Adamello con una persona speciale, come sempre abbiamo un protagonista e quello di questo mese è Pietro Lanfranchi. Bentrovato. Buonasera a tutti. Ti ci hanno portato sull'Adamello Matteo Zanga e Cesare Pisoni. Che esperienza è stata? Una notte in alta quota con la tenda. In alta quota è stata una bella esperienza, sono quelle belle girate che ci si permette una volta ogni tanto al di fuori da allenamenti e gare per quanto mi riguarda. e anche al di fuori di solito vado in giro quando ho tempo libero, vado in giro con la famiglia e così prendersi due giornate tra amici e fare una bella gita, passare una notte in quota e farsi una cena un po' particolare sotto le stelle, su un ghiacciaio. Si è stappato anche del vino tra l'altro. Sì, sì, sì. È anche buono. Voi siete stati, siete arrivati sopra i 3000. Sì. E avete posizionato la tenda ai piedi al corno bianco. Sì, ai piedi al corno bianco perché alla fine abbiamo visto che le condizioni un po' del ghiacciaio, cioè è andato un po' per le lunghe, si doveva far prima questa gita, però un po' gli impiegni miei, di Matteo e di Cesare, soprattutto di Cesare, si è andato un po' avanti con la stagione e di neve ce n'era veramente poca. Allora abbiamo deciso, è stato un po' difficoltoso arrivare lì sul pian di neve e poi abbiamo piantato la tenda lì sotto il corno bianco perché abbiamo deciso di fare la discesa poi il giorno dopo sulla nord del corno bianco, che è un'esposizione un po' migliore per fare quelle quattro curve che abbiamo fatto perché alla fine sono state poi solo quattro curve. Quattro curve però per esperti, decisamente. Invece di solito dove vai a sciare quando ti trovi dalle nostre parti? Ma la zona che preferisco, forse perché ho cominciato proprio lì a sciare con mio papà che faceva il maestro di sci lì e va al canale. Adesso purtroppo gli impianti da sci lì sono chiusi, però resta una bellissima valle, un'esposizione quasi perfetta per far sci alpinismo e per fare turismo invernale con l'appoggio del rifugio alpecorte e quindi sia con le ciaspole che soprattutto con gli sci da sci alpinismo si possono fare delle belle girate, andare in Val Brembana, poi ritornare, basta avere un po' di voglia. Tu però per i tuoi allenamenti ci vai spesso anche in orari improbabili. Sì, purtroppo io per lavoro faccio giornate e come lavoro faccio il tecnico esterno e spesso e volentieri la sera mi viene un po' tardi e quindi per potermi allenare devo andare per forza al mattino prima del lavoro e quindi sì faccio orari, si parte alle 5 e mezza da casa e si va, io abito a Casnigo quindi c'è un bel pezzo da fare con la macchina, poi dopo con la frontale si comincia a salire, si fanno un po' di salite, un po' di cambi, un po' di discese si vedono le albe che sono bellissime, però sì è un po' il freddo, un po' l'ora, insomma così presto al mattino è dura. Ti muove però una grande passione. Sì, d'altronde è quella che ti fa smuovere, ti fa fare un po' questi sacrifici, quella è la passione per uno sport un po' ancora troppo poco conosciuto ma uno sport che meriterebbe sicuramente di più. Adesso sappiamo che è diventato olimpico e quindi forse raccoglierà qualcosa di più e forse i giovani che cominceranno a fare questo sport avranno, riusciranno magari a farlo come professionisti senza tanti problemi. Adesso c'è solo un corpo militare che prende atleti professionisti, che fa fare la vita professionista facendo sci alpinismo ed è il gruppo sportivo esercito, però speriamo che si apra il futuro anche per altri corpi. Tu sei stato otto anni nella nazionale però appunto hai dovuto comunque fare anche una vita parallela. Sì, è stata un po' così, rubando il tempo alla famiglia, alla notte, allenarmi per riuscire a tenere il ritmo di atleti, di campioni assoluti come abbiamo noi in Italia e quando facevo Coppa del Mondo anche degli spagnoli, tedeschi, svizzeri e soprattutto francesi che sono i nostri grandi avversari in Coppa del Mondo. Oltre ai successi e alle soddisfazioni c'è anche un grande affetto che ti circonda, c'è un fans club molto attivo. Sì, sono i miei amici, sono il presidente e un mio cugino, quindi non è che... però sì, sì, è bello, è bello. Alla fine vedere anche che c'è questo affetto mi carica anche un po' di più nel far sacrificio, nell'impegnarmi negli allenamenti e soprattutto in gara e quindi mi viene un po' più facile. Mi hai detto nell'intervista, che troverete poi sulla rivista Orobie di Dicembre, che con questi allenamenti hai in realtà scoperto un'altra passione che è quella della mountain bike. Sì, ma anche della bici in generale, mountain bike soprattutto perché da amante della montagna è il mezzo che ti permette di più andare in montagna, però anche la bici come mezzo di trasporto, di prevedere anche posti nuovi. Io per lavoro vado spesso in giro, vado all'estero e quando vado in macchina ho sempre la mia bicicletta dentro perché quel momento, la sera, dove magari riesco a ritagliarmi un po' di spazio per fare un allenamento, prendo l'occasione, visito e mi alleno. Con la corsa mi è capitato spesso, magari dove non ho montagne di riferimento, di perdermi anche. È più difficile tornare in albergo, invece con la bicicletta, meno male, ci si torna sempre. E con la bicicletta vai anche con la famiglia? Sì, d'estate abbiamo un camper e abbiamo queste biciclette con adesso un carrellino solo, prima dovevamo, perché i bambini sono due, quindi dovevamo prima portarne due, adesso uno solo, uno si arrangia, adesso abbiamo un telescopico con la quale agganciamo la sua bicicletta e l'altra bambina nel carrellino, ma dall'anno prossimo mi sembra anche lei pedala. Andranno da sole. Si fa tanto piste ciclabili d'estate, ci piace tanto, sempre per visitare o per vedere posti nuovi. Tornando allo sci alpinismo, la stagione ormai è vicina, la prima neve l'abbiamo anche già vista, che obiettivi hai per questa stagione? Per me quest'anno ho appena compiuto 40 anni, effettivamente ho quella sensazione lì, sono vecchio, cioè sono vecchio per stare ad alto livello come sono sempre stato, tra virgolette. Però mi piacerebbe eri italiani, quest'anno è l'anno del Mezzalama, che si svolge una volta ogni due anni, quindi quest'anno, l'anno scorso non si è svolto, si svolge quest'anno, e sono quattro edizioni di fila che faccio poi del Mezzalama. Mi piacerebbe, cioè il sogno è quasi impossibile, però riuscire a fare il quinto podio consecutivo, per la gara regina per noi italiani dello sci alpinismo, per me sarebbe un sogno che si realizza. Ovviamente è dura perché bisogna trovare la squadra giusta prima di tutto per arrivare pronti, e poi anche essere in una squadra giusta perché il Mezzalama si corre in tre. E quindi vedremo, il sogno è quello, e anche l'Adamello. Quest'anno è anche l'anno dell'Adamello, che anche questa gara qua si svolge una volta ogni due anni, è una gara che, essendo sulle montagne di casa, a cui tengo particolarmente. Questi qua sono gli obiettivi stagionali. Dopo quello che viene, se alla ronda o altre gare, o qualche convocazione, magari ancora con la nazionale, quello vedremo se si sta bene o cosa. Sì, è dura anche trovare le motivazioni quando va sull'età perché ti rendi conto che diventa un po' tutto più difficile, e quindi ti viene voglia di mollare, però alla fine dico dai, dai, ancora una stagione, magari salta fuori ancora qualcosa di buono. In bocca al lupo e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Grazie a voi.